Salve a tutti ragazzi siamo oggi qui in un nuovo video dal 3 store a mostrarvi l'unboxing di iPhone 6 Allora dalla scatola possiamo vedere che è molto minimal infatti abbiamo solo una scritta iPhone Tutti i lati bianchi e possiamo vedere che è un Space Gray da 16GB versione demo Infatti siamo al 3 store e ringraziamo Peppe per l'iPhone Mentre lo scartiamo possiamo dirvi che questo video lo pubblichiamo sicuramente il giorno dopo Ma ieri sera quindi ieri 25 settembre partendolo dalla vendita dal 26 quindi alla mezzanotte Era possibile comprare l'iPhone 6 Allora adesso cerchiamo di togliere la scatola Di togliere l'iPhone dalla scatola senza far codere Allora ecco qua l'iPhone Adesso lo tiriamo fuori Possiamo vedere i tossi volume con lo sleep wake per il volume I vari connettori Il tastino che è stato spostato home E poi abbiamo la fotocamera sporgente Questo infatti davanti al vetro è nero e dietro è lo Space Gray Apriamo la scatola e possiamo far vedere che c'è l'alimentatore Non ci sono le cuffie perché è un demo E ci sono il cavetto Lightning Allora facciamo dirvi un nuovo iPhone Da Alessio Marrazzo è tutto per Alex App Allora facciamo dirvi un nuovo iPhone Allora facciamo dirvi un nuovo iPhone